Continua la polemica a Ruvo di Puglia per la presentazione del libro dell'ex brigatista Barbara Balzerani, lascia che il mare entri, prevista per domani. Il consigliere Antonello Paparella del centrodestra sul caso aveva presentato una mozione al presidente del Consiglio contro il patrocinio di una manifestazione in cui sarà protagonista una persona dal passato discutibile. Ai voti però la richiesta non è passata per 6 a 5. Sulla vicenda è intervenuto nuovamente l'assessore alle politiche culturali Pasquale De Palo il quale ha letto una nota in cui ha spiegato i motivi dell'invito alla Balzerani sia dal punto di vista morale sia soprattutto da quello amministrativo. Il libro parla di donne e non ha nulla a che fare con la storia dell'autrice ha detto De Palo. Quello che ci dispiace ha aggiunto l'assessore che il train tram mediatico di chi ha fatto costantemente il copio in colla dalla biografia della signora Balzerani sta dando fin troppa visibilità ad un evento dei 39 previsti a Ruvo di Puglia. Grazie a tutti.